Sono Ignacio Maria Coccia, sono un fotografo e sarò il vostro insegnante di fotogiornalismo alla Scuola Jack London di Torre di Palme. Durante il corso condividerò con voi il mio personale bagaglio di conoscenze e di esperienze maturate in quasi 25 anni di attività sul campo. Partiremo con lo studio di alcuni grandi autori, alcuni grandi fotografi che hanno rappresentato la nascita del fotogiornalismo e che hanno influenzato la mia carriera, fino ad arrivare agli autori contemporanei. Personalmente penso che alla base di questo mestiere ci debba essere una fortissima passione. Tuttavia per renderla una professione ci vogliono costanza, determinazione e conoscenza. La Scuola Jack London sorge in un palazzo storico del borbo appunto di Torre di Palme nelle Marche, un luogo affacciato sul mare, un luogo che ci permetterà sicuramente di portare a termine il migliore di modi di nostro programma. Inoltre sono convinto che con i miei insegnamenti e con gli insegnamenti dei miei bravissimi colleghi l'esperienza di studi nella Scuola Jack London sarà sicuramente un'esperienza meravigliosa.